Ciao Matteo! Ciao! Ma sei ancora qua? Aspetta, ho trovato una promozione su Club Coupon per portarti a cena questa sera. Non ho capito, cos'è Club Coupon? Oh Dennis, ma non sei aggiornato. Club Coupon è un sito dove tu puoi acquistare tutto l'anno diverse promozioni su tutte le categorie merceologiche che ci sono. Per esempio io ho aderito, quindi se tu vuoi vai sul sito, compri un coupon del mio negozio, vieni e hai da acquistare della merce e ha degli sconti vantagiosissimi. Buongiorno, stati chiudendo? No no, venga, venga! Ho comprato su Club Coupon la sua promozione. Bene, con questo coupon puoi scegliere qualsiasi prodotto abbiamo esposto in negozio per l'importo che ha pagato su clubcoupon.net. L'erboristeria Germoglio di La Spezia ha aderito a Club Coupon.